16 maggio a Roma il tribunale più grande d'Europa apre le sue porte, le apre per far entrare 800 studenti che potranno vivere queste aule attraverso quello che le aule stesse racconteranno in questa giornata. Allora tra i promotori di questa giornata sicuramente Ius Gustano, Ius Disputano attraverso l'avvocato Antonella Sotira, intanto diciamo brevemente quale sarà lo scheletro in modo scarro naturalmente per motivi televisivi di questa giornata. In questa giornata parte il momento iniziale dell'inaugurazione della consegna del codice di Falcone, ragazzi che partono per la nave della Galità che arriverà a Palermo il 23 maggio, consentirà a questi ragazzi di scegliere 11 percorsi con 22 seminari che si svolgeranno nelle aule del tribunale, faranno un viaggio segreto nel tribunale segreto, potranno visitare le celle, la sala intercettazione, la sala ricognizioni, poi assisteranno ad una pièce teatrale fatta dagli avvocati sulla vita d'avvocato, una fatta dai magistrati sulla storia, la vita del fascicolo, quindi grande possibilità per i ragazzi di testare dal vivo ciò che si fa in queste aule, chi lo fa, come si fa e anche i protagonisti sono i fascicoli, le storie, i reati, affronteremo noi per Ius Gustano le sofisticazioni alimentari, l'uso degli anoressizzanti, l'importanza della dieta, poi abbiamo un altro laboratorio sulla tutela dell'ambiente in sinergia con il corpo forestale dello Stato ed un altro con il gruppo dei carabinieri della tutela patrimonio artistico, su invece l'importanza appunto del nostro patrimonio culturale artistico da tutelare. Avvocato Sottile e Ius Gustano, naturalmente ci sono dei soggetti meravigliosi che hanno pensato di unire le sinergie per questa giornata, l'associazione nazionale magistrati attraverso la sua sezione romana, l'ordine degli avvocati di Roma. Avvocato, mi presenta i suoi ospiti, cominciamo da sinistra, sono onorata di considerarli i miei ospiti. Allora, intanzitutto il presidente della Corte d'Appello di Roma, il dottor Panzani, che abbiamo avuto modo di vedere sul palco, abbiamo anche ripreso l'apertura ufficiale, quindi oggi siamo tutti portatori sani di legalità. Assolutamente sì e come ho detto dal palco, la cosa più importante è il passaggio del testimone. Io ho incominciato 40 anni fa, esattamente in questo palazzo, che allora era nuovo e non pensavo di vederlo poi in queste condizioni di degrado in cui si trova oggi, questo è un altro dei nostri problemi, la mancanza di fondi, la mancanza di risorse, ma il punto fondamentale è la legalità, la libertà. Le condizioni del vivere non sono una cosa acquisita una volta per tutte, sono un valore che conquistiamo tutti i giorni difendendolo. Se noi non passiamo questo testimone, questa consapevolezza nei giovani, siamo destinati a vederlo finire e questo assolutamente noi non lo vogliamo. Abbiamo degli esempi importanti, purtroppo dei morti e vogliamo che questi sacrifici non siano stati inutili, per cui oggi riaffermiamo quei valori, siamo felici che i giovani vengano nelle nostre aule, non perché sono le nostre aule, ma perché sono un patrimonio nostro, ma direi da oggi soprattutto loro. E questo è veramente magnifico. Continuiamo naturalmente, certo, che ha preso proprio alla lettera che porterà il messaggio, portando addirittura in testimonianza la maglietta. La maglietta, certo. Voglio ricordare innanzitutto, come diceva il Presidente Pansani, che anch'io ho lavorato in questo tribunale per gran parte della mia vita, dove ho trascorso circa più di 30 anni alla Procura della Repubblica nella lotta contro il terrorismo. Ma voglio ricordare una cosa che anch'io ho pronunciato dal palco. Qui siamo in un'aula dove normalmente i giudici applicano la legge, quindi la protagonista in questo palazzo è la legge. Qui viene applicata la legge, una legge che, come scritto in questa, la legge deve essere uguale per tutto. Ho ricordato ai giovani che questa frase può anche determinare qualche sorriso, ma deve essere creduta, perché guai se non fosse creduta. Quindi è importante che in una giornata come questa, che mi ricorda del resto la giornata del 17 gennaio, la giornata dedicata alla giustizia, avendo i stessi scopi, perché entrambe le giornate servono ad avvicinare i giovani alla giustizia, ma soprattutto i cittadini alla legalità. E soprattutto vorrei che in questa giornata, come allora, nel 17 gennaio, sia ricordata proprio questa frase. Questa frase che è la fondamenta della democrazia e della giustizia. La legge è uguale per tutti. E io credo che oggi sicuramente resterà nei nostri cuori, oltre che nelle nostre menti. Continuiamo da questa parte. Abbiamo il Presidente dell'Ordine e gli Avvocati di Roma, il più grande ordine d'Europa, 22.000 iscritti. Mamma mia, che responsabilità, Presidente! Tra l'altro è stata molto limitata la collega Sotira, perché siamo 25.000 a Roma, quindi siamo ancora più grandi di quello che si pensava. Anche voi soggetto impegnato proprio in prima linea, insieme agli altri che abbiamo menzionato poc'anzi? Beh, diciamo che noi rappresentiamo l'altra faccia della medaglia, rappresentiamo l'articolo 24 della Costituzione, il diritto della difesa e assolviamo a questa funzione sociale che è indispensabile per poter avere giustizia. E proprio perché la giustizia è la base del nostro Paese, abbiamo pensato di regalare ai ragazzi tutti una cocardina con la bandiera italiana all'interno, perché il nostro lavoro, il lavoro dei magistrati, significa anche portare avanti la democrazia e quindi la bandiera italiana per tutto il nostro Paese. Grazie. Intanto continuiamo il giro delle presentazioni. L'Avvocato Paola Balducci, componente del CSM. Professoressa anche, però per me è più importante dire avvocato. Ma senz'altro, ma senz'altro, allora ecco ci facciamo largo qui. Allora, intanto una giornata importantissima, anche la sua presenza qui oggi è fondamentale e vedo che lei proprio l'ha indossata come una seconda pelle e quindi complimenti anche Cosimo Ferri. Subito. Sono contenta, è una parola molto riduttiva, anche perché consiglio superiore per la mia esperienza vuol dire esperienza di avvocato che per quattro anni è prestata al mondo della giustizia. Quindi, con un occhio attento di avvocato, guardare il pianeta della magistratura. Però al di là dei ruoli che ognuno di noi occupa, aprire queste porte ai giovani e far capire, al di là delle notizie che sono spesso confuse, che cos'è la legalità, che cos'è il tribunale, che cos'è la giustizia. I ragazzi che camminano vedono le aule. Questo è il valore più importante. Io dico una piccola cosa e chiudo. Qualche tempo fa in un'altra vita ho fatto anche l'assessore regionale al diritto allo studio. Io portavo gli studenti ovunque perché i giovani sono curiosi. Non dobbiamo mai distruggere la curiosità dei giovani e dare delle risposte. E credo che questo momento è un momento di coesione in mezzo a tanta violenza che fa pensare che la legalità è possibile se siamo uniti vinciamo le battaglie. E brave, queste parole ci vedono uniti. Non voglio coprire nessuno, quindi mi metto da questa parte. Cosimo Maria Ferri, sottosegretario della giustizia, giustizia e legalità. A braccetto. Sì, a braccetto. Devo dire una giornata davvero importante e mi ritrovo in quello che ha detto anche il consigliere Paola Balducci. Oggi è una giornata magica e mentre vedevo tutti questi ragazzi pensavo che idea hanno loro della giustizia e cosa tirano fuori da una giornata come questa. Istituzioni tutte presenti che collaborano tra di loro, che si aprono ai giovani e che aprono i tribunali. Io ringrazio, ho ringraziato prima i capi ufficio di questi uffici romani perché è importante fare entrare la società civile nei tribunali. In un momento in cui siamo attenti alla sicurezza ed è fondamentale e dobbiamo ringraziare le nostre forze dell'ordine per quello che fanno, nello stesso tempo non dobbiamo avere paura di far conoscere i nostri luoghi, di aprirgli alla società civile e di far capire ai tanti giovani che crescono, che hanno fiducia, che hanno speranza, che sognano che questi presidi sono presidi della legalità, che consentono di andare avanti alla nostra democrazia e di dare quelle risposte di certezza del diritto e di certezza della pena, di giustizia formale e sostanziale che tutti noi ci aspettiamo per credere in un Paese migliore e in un Paese davvero che da una parte accolga tutti e dall'altro sappia dare una spinta di incoraggiamento ai deboli, a quelli più in difficoltà, garantendo anche un diritto di difesa che è importante da garantire a tutti e quindi in questo gioco di squadra che secondo me è essenziale. Giornate come queste danno speranza e danno anche un po' di entusiasmo, anzi molto entusiasmo a tutti noi per percorrere questa strada. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie e quindi l'auspicio è che ci siano più giornate come questa. Adesso noi seguiremo alcuni elementi importanti di questa giornata, tra seminari, dibattiti, tavole rotonde. Qui abbiamo un team di assoluta eccellenza. Avvocato, i prossimi immediati appuntamenti quali sono? Gli appuntamenti più immediati sono il film dibattito condotto dalla giornalista Franca Leosini di Rai 1, Rai 3, Rai 3, perdono. Poi dopo ci sarà contestualmente anche un altro incontro dibattito sul film di Ivano De Matteo. Contestualmente iniziano anche il viaggio del fascicolo la tutela ambientale. Poi alle aule superiori è possibile vedere i corti realizzati dagli studenti di tutte le scuole che hanno aderito, una mostra fatta sempre dagli studenti sul tema della legalità, i questionari preparati dagli studenti sul tema della legalità che invitiamo tutti a compilare perché sono per qualsiasi cittadino, non soltanto per noi avvocati, per i magistrati. Poi successivamente dalle 18 una piccola pausa, 18.30 riprenderanno gli altri seminari. Grazie Grazie